No, solo un avvertimento. Dato che c'è questa ordinanza che invecchi la guardia, non mi dà molto più di quello che ho fatto. Io ho già il tipo di preparare prima la cosa, di dire la prima, guardate, ci stiamo con attimo, stiamo con la ripresa video, quindi non... Ecco, non ricominciamo a fare come deve fare, perché magari non è proprio il momento che è sperimentato. Eh, esattamente, teniamo tanto quanto terbe, se arriva la guardia, ecco il po' è tutto. Tu guardi Catenacci Production? Sì, sì, sei in Catenaccio? Sì! Ecco, siamo in diretta qui dal Colosseo. Buongiorno, ma lei la Catenacci Production c'è? Eh? La Catenacci Production c'è? No, no, no! Lei è quello della Catenacci Production? No, 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 no! Travestito da Caracca? No, no, ma è stato sbagliato, io non sono Antonio, non sono Antonio, ma è stato sbagliato, no, no, no! No, non è Antonio. No, no, no! E lei? Che fa? La guardia Catenacci Production? Certo, tutte le puntate. Sì? Grazie. Prego, ciao. L'uso di strumenti a percussione nelle strade, sequestrando l'arte di strade in genere, soprattutto l'uso da parte dei percussionisti, dei tamburi. Noi ci ritroviamo comunque a fare una tradizione popolare molto seguita poi sul mondo e allora per mostrare un po' di poter riuscire a girare anche in questa evoluzione, suoniamo senza suonare. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti